Una tela ad olio di 50 cm x 45, raffigurante una Madonna aurante, fu rubata nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 1992 dalla chiesa della Santissima Annunziata a Fossombrone. Oggi, dopo ben 27 anni e un lungo iter giudiziario, i carabinieri della Compagnia di Fano insieme ai colleghi di Ancona hanno potuto restituire l'opera al sindaco Gabriele Bonci e quindi alla comunità della cittadina metaorense. Il dipinto venne notato per la prima volta dai militari solo 5 anni dopo il furto. Fu ritrovato infatti in una bancarella del mercato dell'antiquariato all'interno del complesso di San Michele a Fano. La preziosa tela che raffigura la Vergine in veste rossa e velo azzurro con un libricino in mano nell'atto di pregare aveva in origine un diadema di metallo sbalzato sul davanti, mentre sul retro era presente la scritta M puntato Bentivogli. Probabilmente riferimento a un pittore marchigiano del XVIII secolo, elementi importanti descritti nella scheda di catalogo ma oggi non più rintracciabili nell'opera stessa. I militari di Ancona avviarono poi una serie di verifiche che, grazie al contributo della soprintendenza per i beni artistici e storici, permisero di risalire all'esatta provenienza. Nel novembre del 97 il dipinto venne sequestrato a un'attività di antiquariato di Rimini e dalle indagini emerse che fu acquistato per 2 milioni delle vecchie lire da un antiquario di Fano, già noto alle forze di polizia perché coinvolto in altre indagini inerenti a furti d'opere d'arte da luoghi di culto. Il commerciante riferì di averlo ricevuto in dono da un sacerdote e deceduto ma venne condannato in primo grado per ricettazione, poi i ricorsi in appello e il processo in cassazione ne allungarono i tempi. Il risultato sicuramente è il frutto della sinergia tra la componente territoriale e quella speciale dell'arma dei carabinieri. Da un lato i militari della compagnia di Fano, dall'altro i colleghi del comando tutela patrimonio culturale di Ancona. Il risultato sicuramente è un risultato a favore della gente, del popolo fossembronese, tenuto conto dell'alto valore devozionale del dipinto. Il processo che vi dall'epoca al comune di Fossombrone costituirsi parte civile quale proprietario del bene trafugato si è concluso con un provvedimento di archiviazione per sopraggiunta morte del commerciante. Di conseguenza è stata disposta la restituzione del bene al legittimo proprietario e oggi, nella caserma dei carabinieri di Fano, i militari hanno restituito il dipinto al sindaco affinché i forsembronesi possano tornare ad ammirare l'opera tra le proprie mura. Intanto devo ringraziare l'arma dei carabinieri, il capitano papale di Fano, per la riconsegna di questo dipinto alla città di Fossombrone. Un dipinto che mancava da tanti anni. Tornerà a casa, molto probabilmente sarà collocato nella pinacoteca civica, visto che la chiesa dalla quale è stata sottratta è una chiesa oggi non ufficiata, non agibile. Comunque un ritrovamento importante, quindi ringrazio di nuovo l'arma a nome mio di tutta la città di Fossombrone.